Villa Berceto necessita dei lavori per mettere a norma la piscina e trasformarla da piscina privata della Villa dei Casalesi in qualcosa fruibile alla popolazione di Berceto e anche ai villeggianti. Sta già avvenendo ma è necessario adeguarsi a quelle che sono delle giuste normative dell'ASL per cui abbiamo presentato un progetto alla Regione Emilia-Romagna sulla legge di sostegno alle amministrazioni comunali per ristrutturare i beni confiscati alla mafia e la Regione Emilia-Romagna ancora una volta ha corrisposto un contributo. Mancava il 30% che abbiamo avviato insieme a Lacer un grande progetto nell'ex edificio della caserma dei Carabinieri e della Polizia oggi utilizzate ancora dai Carabinieri e dal Corpo Forestale dello Stato che come sappiamo purtroppo viene soppresso. Anche gli stessi Carabinieri andranno nella nuova caserma che hanno ripreso i lavori quindi a breve saranno terminati. Rimane questo edificio che il Comune di Berceto gli dispiacerebbe alienarlo e non averlo più in uso alla popolazione perché degli appartamenti a Berceto servono sempre per cui abbiamo avviato questo progetto in nome di Tomasini Mario con Lacer. è un'idea di Tomasini Mario avere un edificio in cui ci possono essere dei monolocali per anziani che possono vivere ancora in autonomia insieme a degli appartamenti per delle giovani coppie che a Berceto mancano perché con gli affitti prevalentemente estivi le persone proprietarie degli appartamenti preferiscono affittarli in estate che rispetto ad affittarlo tutto l'anno e quindi se ci sono delle giovani coppie che desiderano degli appartamenti a cocanone è difficile trovarli nel nostro paese. Questo progetto invece di ristrutturazione di tutti questi edifici insieme a Lacer ci permetterà di avere degli alloggi sia per le giovani coppie che dei monolocali per gli anziani autosufficienti che potranno vivere insieme anche alle persone più giovani quindi non sarà assolutamente un ghetto per anziani ma sarà un qualche cosa che aveva immaginato Mario Tomasini e ci sembra particolarmente bello poterlo fare con l'aiuto indispensabile di Acer.